Marco, informandosi sulle obbligazioni, ha sentito parlare di spread, ma non li ha ancora chiaro di che cosa si tratti. Ho sentito spesso parlare di spread, ma che cosa si intende con questo termine? Se tu prestassi i tuoi soldi ad un individuo che potrebbe non riconsegnarti il denaro alla scadenza, non chiederesti una remunerazione elevata e quindi un tasso di interesse elevato? Certamente sì, è la regola base del rischio-rendimento. Se prendi un rischio, vorrai guadagnarci di più, quindi in questo caso vorrai un tasso di interesse maggiore. Così, ad esempio, il tasso di interesse che lo Stato italiano paga a coloro che comprono un titolo di Stato è maggiore di quello che paga lo Stato tedesco. Lo vedi bene comparando le curve dei tassi di interesse di Italia, Grecia e Germania. Lo spread Italia-Germania è proprio dato dalla differenza tra il tasso di interesse pagato dallo Stato italiano per un titolo con scadenza di 10 anni e quello del titolo equivalente emesso dallo Stato tedesco. Questa differenza di tassi di interesse è un indicatore di rischio di fallimento dello Stato italiano rispetto allo Stato tedesco, che è ritenuto molto solito. Oggi, grazie anche all'opera della Banca Centrale Europea, lo spread Italia-Germania è diminuito, ma al colmine della crisi è stato anche superiore al 5%. Ma come si lega lo spread ai prezzi delle obbligazioni su cui potrai investire? Caro Marco, curve dei tassi di interesse di mercato diverse si riflettono su prezzi di obbligazioni differenti. Se infatti vuoi calcolare il prezzo di un'obbligazione, nota la curva dei tassi di interesse di mercato dell'emittente, devi attualizzare le sue cedole e il suo valore di rimborso rispetto ai tassi di interesse di mercato riportati sulla curva dei tassi. Cioè, cosa vuol dire attualizzare una certa somma? Procediamo con ordine. Innanzitutto devi conoscere la curva dei tassi riferita all'emittente dell'obbligazione, cioè i tassi di interesse a cui il mercato presterebbe i soldi all'emittente per le diverse scadenze. Consideriamo ad esempio la curva dei tassi di un certo emittente che trovi qui a fianco. D'accordo, ma una volta che conosco la curva dei tassi di mercato, cosa devo fare? Come posso, ad esempio, determinare il prezzo di un titolo che consegna una cedola di 3 euro tra un anno e una cedola pari a 3 euro tra due anni assieme al rimborso di 100 euro? Devi determinare qual è il valore oggi delle cedole che riceverai tra 1 e 2 anni e quanto vale oggi il rimborso del capitale a 2 anni. Questo vuol dire attualizzare o scontare una somma di denaro che sarà disponibile in futuro. Ok, attualizzare, ma come devo procedere concretamente? Vediamo come si fa in pratica. Per prima cosa ricordiamo la formula di capitalizzazione che stiamo usando, quella composta. In base a tale legge, se investiamo un capitale C oggi, il montante M, cioè la somma del capitale iniziale e degli interessi maturati, ad un istante futuro T, si calcola come C per 1 più i t alla t, dove i t è il tasso di mercato anno per investire oggi con un rimborso al tempo t. Finora, dati C il capitale iniziale e D il tasso di interesse, abbiamo usato la formula per andare avanti nel tempo, per capire cioè quanti soldi riceverai in t, cioè il montante. Ora giriamo il problema. Ci chiediamo quanto vale oggi un titolo che mi permette di ricevere 1 euro fra un anno. Non ne ho idea. Per rispondere, notiamo che il valore di mercato oggi di 1 euro al tempo t è pari al capitale C da investire per avere 1 euro al tempo t. In questo problema però il montante è noto ed è pari ad 1, mentre la grandezza a calcolare è il capitale da investire oggi, cioè C. Quindi possiamo scrivere che C è M, in questo caso 1 euro, diviso 1 più i t alla t. Se la scadenza del titolo è tra un anno, allora il valore oggi che corrisponde a ricevere 1 euro fra un anno sarà 1 diviso 1 più i1. Essendo i1 pari a 2.9%, otteniamo che tale valore è circa 0,97 centesimi. Chiaro? Non proprio. Rifacciamo questi passaggi assieme per il titolo che mi hai portato prima come esempio. Consideriamo il valore di rimborso di 100 euro tra due anni. Ci chiediamo, quale cifra oggi mi permette di avere 100 euro tra due anni? Se il tasso di mercato annuale a due anni, cioè i due, è pari al 3.8%? Allora, il montante, che in questo caso è il valore di rimborso, è 100 euro. T è pari a 2. Il tasso di interesse, i due, è pari al 3.8%, cioè 0,038. Tutto bene finora. Ti manca un ultimo passo. Applicare la formula della capitalizzazione composta. Parti da m uguale c per 1 più i t alla t. Divide entrambi i membri per 1 più i t alla t. Ecco che ottieni la formula qui a fianco. Se ora usi i valori che mi hai indicato pochi secondi fa, troverai che la cifra da investire oggi per ottenere 100 tra due anni è 92 euro e 81 centesimi, cioè 100 diviso 1.038 al quadrato. Si dice che 92.81 euro è il valore attuale di 100 euro fra due anni. Ok, ora mi è più chiaro. Bene, ora facciamo lo stesso calcolo con le cedole. Per quanto riguarda quella riscossa al termine del secondo anno, il tasso di mercato di riferimento sarà lo stesso di prima. E quindi il valore attuale sarà 3 diviso 1.038 al quadrato, cioè 2 euro e 78 centesimi. Se invece attualizzi o sconti la cedola riscossa al termine del primo anno, il tasso di mercato di riferimento sarà quello ad un anno, cioè 0.029. Il valore attualizzato della cedola ad un anno, pertanto sarà 3 diviso 1.029, cioè 2 euro e 92 centesimi. Insomma, noti i tassi di mercato, posso attualizzare le diverse cedole e il valore di rimborso di un'obbligazione. E il prezzo del titolo? È esattamente la somma dei valori attuali delle cedole e del valore di rimborso. Nel caso considerato, il prezzo sarà di 98 euro e 51 centesimi. Questo è il prezzo dell'obbligazione. Perfetto. 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 Grazie a tutti.